buongiorno bella gente benvenuti nel mio canale questi qua sono i miei capelli quindi adesso andiamo con un trattamento una maschera fantastica fai da te per questi capelli se vi piace questo video mi raccomando lasciatemi un like come vedete e iscrivetevi al canale allora io nella terrazza o dell'alue vera e quindi taglio solo un pezzo perché non vuole rovinare la pianta tutta quindi taglio quel pezzo più rovinato per questa maschera come vi ho detto abbiamo bisogno di un po di aloe vera delle pastiglie di spirulina c'è anche in polvere e dell'olio di lino se non avete l'olio di lino potete utilizzare l'olio di avocado o proprio il gel di lino andiamo a rompere questi passivi di spirulina se ce l'avete in polvere meglio e vado a prendere il gel di aloe vera se avete già la crema o il gel pronto di aloe vera potete utilizzarlo direttamente dovete solo assicurarvi che 90 per cento almeno c'è almeno il 90 per cento di aloe vera come sapete non è così semplice perché è molto piccicosa e volevo proprio tagliare il pezzettino senza sprecare tanto aloe vera sapendo che il pezzo è proprio piccolo vado ad aggiungere dell'olio di lino dopodiché frullo il tutto per fare una cremina io ho solo questo pezzettino di aloe vera se ne avete di più potete utilizzare di più prima di applicare questa maschera vado a bagnarmi i capelli anche se non sembra però veramente lo lavati senza shampoo niente lo solo bagnati adesso vado a applicare l'aloe vera diretta per non buttare via i pezzettini che hanno già hanno ancora il prodotto o il gel in frattempo vado a dividere i capelli per poter applicare la maschera sapendo che non ne ho tanta quindi cerco di applicarla su tutte le ciocche di capelli grazie allora lo mettete a riposo il tempo che potete io lo lasciate almeno per due ore vado a preparare il mio crazy color che è finito lo allungo con del balsamo per capelli balsamo normalissimo e vado ad agitarlo bene perché così prende il colore sapendo che ne ho poco vado ad applicare la mia lola cosmetic per capelli ricci divido i capelli a metà e comincio ad applicare il mio crazy color allungato comunque è logico che a ogni volta che applico il colore mi sporco tutta al pavimento lavandino mani collo e la normalità senti questo qua è il risultato non li asciugo di tutto ridò solamente un colpo con il phon il riccio come è bello luminoso vi faccio vedere il risultato dopo comunque si vede come sono belli guardate il riccio come è bello comunque spero che vi è piaciuta questa maschera spero che vi è piaciuto il mio trattamento mi raccomando se vi piace il mio canale se vi piace questo video lasciatemi un like un commento scrivetevi al canale attivando la campagna Dila e niente bella gente alla prossima ciao a tutti ciao a tutti